Sinceramente non ho mai visto così tanta gente alla consegna dei guzzi e questo ci fa veramente piacere perché la nostra paura era quella che la gente avrebbe dimenticato il palio e così non è stato. Con una grande emozione si è tenuta la cerimonia dell'estrazione dei guzzi a Porto Santo Stefano le quattro imbarcazioni con cui i quattro rioni si contenderanno il palio marinaro dell'Argentario il 15 di agosto. La manifestazione torna dopo due anni di stop. È un'emozione che non si può riprovare, non si può descrivere perché lo sentiamo proprio dentro il palio. E' mancata questa manifestazione. E' mortissimo. Anche sì, ci voleva finalmente riprendere a vivere. La manifestazione più bella e più sentita del paese e finalmente si rifà. E' un'emozione unica per noi santostefanesi specialmente. Il ritorno alla nostra origine e un risveglio per il paese, un battito forte. Auguro a tutti, un buon ritorno, un buon palio a tutti, sperando in un futuro migliore e niente, sperando in un'estate bellissima, piena di venti e di divertimenti. Vedi che rione siete? Lei è della Fortezza e io della Croce. Divisi in famiglia? Divisi. Sono 15 di agosto, uno da una parte e poi in casa io sono solo, della Croce loro sono 7-8. Alla Fortezza è stato assegnato il maestrale, alla Croce il Libeccio, al Valle il Grecale, alla Pilarella lo Scirocco. Allora, l'emozione è stata tanta, avete visto pure il tremolizio delle mani mentre apriamo le buste. Comunque speriamo di andare avanti bene, anche se oggi abbiamo parecchi contagi. Però, come in tutte le manifestazioni che si sono svolte in Italia, speriamo di andare avanti pure noi, arrivare il 15 di agosto senza tanti problemi. Gli equipaggi si sono rinnovati, si sono ritrovati, come sono stati questi due anni? No, in questi anni non è che ci sia stato tanto rinnovamento, però c'è qualche giovane in più, qualche timoniere giovane, però sono tutti abbastanza agguerriti, ho visto, perlomeno finora. Poi, ora, con la consegna delle barche, vedremo ancora meglio quello che succederà in acqua. Prima della consegna dei guzzi, c'era stata la premiazione del concorso Il Paglio con gli occhi di un bambino, che ha visto come protagonisti le classi quarte e quinte della scuola primaria Sant'Andrea e delle classi terze della scuola secondaria di primo grado Mazzini. Presentato anche il nuovo manifesto del Paglio dell'Argentario, realizzato dal grafico e artista Paolo Castriconi, raffigura i battelli con gli equipaggi che remano verso l'alba. È anche un omaggio ad Elio Loffredo, artista di Porto Santo Stefano, recentemente scomparso. Guarda, non ci credevo fino ad oggi, quando ho indossato la camicia, mi sono guardata allo specchio e ho detto allora è vero, ero emozionatissima, guarda, anche già a casa avevo la voce che mi tremava, il cuore a tremila proprio, come se mi stesse per venire un infarto. Poi quando sono arrivata lì e abbiamo finito di percorrere il corso e ho visto tutta questa gente, ecco lì mi sono emozionata tantissimo perché veramente non ricordo così tanta gente alla consegna delle imbarcazioni perché di solito la gente c'è quando è più vicino al palio, negli eventi vicini al palio. Questa è stata veramente una sorpresa, questo vuol dire che la gente ha voglia di palio, ha voglia di festeggiare e ha voglia di tifare il proprio rione. Speriamo di potergli dare la possibilità anche quest'anno, noi stiamo andando avanti con il nostro programma e naturalmente presenteremo tutto quello che sono i vari piani di sicurezza, l'abbiamo già presentati con anticipo in modo tale che se le forze dell'ordine ci chiederanno delle modifiche da fare o comunque ci chiederanno di apportare qualche condizione diversa dagli altri anni, avremo tutto il tempo per poterlo fare. Quindi teniamo così le dita incrociate e speriamo di vederci il 15 in diretta e a parlare di palio e festeggiare il vincitore, che naturalmente io non posso dire chi vorrei che fosse. Non arriva il photo finish, incredibile, incredibile, pilarella e croce, mai visto qualcosa del genere, mai visto qualcosa del genere, mai visto qualcosa del genere, la pilarella, è la pilarella, 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 ha vinto la pilarella, ha vinto la pilarella, un palio incredibile, un palio pazzesco, un palio indimenticabile.